Coeve degli Epodi sono le satire di Orazio. Orazio per le tali chiama Sermones, a indicare proprio un andamento discorsivo delle opere stesse. Si tratta appunto di una serie di opere raccolte in due libri, scritte tra il 41 e il 30 avanti Cristo. Le caratteristiche più importanti che immediatamente balzano gli occhi nell'analisi delle satire sono appunto il soggettivismo, il moralismo e i comportamenti e i difetti, come vengono appunto stigmatizzati nelle satire. Andiamo con ordine. Nelle satire c'è un io, un io molto forte, che riflette, che osserva, che trae delle conclusioni. È chiaro che questo io così preponderante deve anche avere una base morale, etica molto forte, che è il famoso appunto io delle satire. Deve essere un io moralista, che non cade naturalmente nello scandalizzarsi di tutte le cose e per ogni situazione, ma che sicuramente fa riferimento a un codice etico di comportamento, che è quello che è caratterizzato da una razionalità e vedremo anche da un paio di principi particolarmente interessanti, che sono appunto, giusto per anticipare, l'aurea mediocritas e l'autarchia. Questo io satirico, appunto, serve e riflette sui comportamenti e sui difetti dell'uomo, quindi anche in questo caso naturalmente oggetto dell'analisi non sono le singole persone realmente esistite, ma più in generale i tipi umani e quindi ovviamente i difetti caratteristici di alcune persone o gruppi di persone. I modelli di riferimento sono, secondo Razio, particolarmente variegati, nel senso che è vero che Quintiliano, nella sua opera Ristituzio oratoria, appunto del primo secolo d.C., ha dichiarato che è satura tota nostra est, cioè che il genere satirico è un genere completamente romano. Però Orazio tende a rintracciare, oltre ovviamente al modello romano di riferimento, l'uscidio, e vedremo poi in che modo si instaura questo confronto tra se stesso e l'uscidio, ma tende appunto a riscontrare alcuni elementi che la satira, la sua satira, i suoi sermone, stanno con la commedia greca e con la diatriba. Andiamo a vedere appunto queste caratteristiche. Orazio individua appunto in lucidio il personaggio che ha dato origine alla satira romana. Certo, oltre a riconoscere il padre della satira, individua in lucidio tutta una serie di difetti. Lo ritiene l'Entulus, appunto fangoso, quindi come un fiume grande, che porta con sé anche, soprattutto, insomma, l'acqua non del tutto pulita. Lo ritiene appunto estremamente prolisso nel suo modo di esprimersi, e soprattutto mette in evidenza la scarsa cura adoperata nello scrivere queste satira. È chiaro che il punto di riferimento di Orazio è il laborlime, quindi il lavoro di Lima, cioè la rifinitura delle opere stesse. Un paziente lento lavoro appunto sulle opere permette a Orazio di togliere tutte quelle imperfezioni di stile, di trovare sempre il vocabolo quello più adatto, l'aggettivo più consono, e quindi una lunga, elaborata operazione appunto di risistemazione e pulitura dell'opera stessa. Il tutto dettato naturalmente dal senso della misura che per Orazio, tanto nella riflessione moralista quanto nella scrittura e quindi nello stile, non deve assolutamente mancare. Per quanto riguarda la commedia greca, Orazio ritiene che alcuni aspetti della satira romana ricordano la commedia antica, in particolare Eopoli, Cretini e Aristofane, anche se ovviamente, così come mette in evidenza alcune situazioni, mette in evidenza appunto alcune caratteristiche in comune con la commedia greca, allo stesso tempo Orazio si distacca da quella libertà di parola che era propria di quel periodo appunto, il V secolo a.C., di quel genere letterario appunto, la commedia greca, la commedia antica. E se un Aristofane poteva permettersi di attaccare direttamente gli avversari in maniera appunto molto forte, Orazio invece vive in un clima culturale molto differente e quindi preferisce attaccare i vizi e i comportamenti piuttosto che le persone. Qualche elemento in comune si può riscontrare anche con la diatriba. Questo genere appunto particolarmente caro a Diogene e ai cinici consisteva appunto nell'alternanza tra toni gravi e toni scherzosi e nel introdurre all'interno dei propri discorsi, o comunque solo come domanda stimolo, anche solo come incipit delle loro riflessioni, aneddoti, apologhi. E anche in Orazio noi troviamo l'elemento proprio della diatriba, cioè il comico che è usato in funzione moralistica appunto. Il comico serve appunto per mettere a nudo quello che è il comportamento, il vizio, la caratteristica specifica di una determinata persona. E seppure l'espressione appunto di Orazio non può tranquillamente applicarsi a Orazio, e cioè Orazio ha sicuramente castigato i costumi delle persone, ma sempre con il sorriso sulle labbra. Per quanto riguarda le caratteristiche, diciamo, delle satire, di solito le satire araziane si dividono in satire narrativa, narrative e discorsive. Quelle narrative appunto dove prevale il racconto di qualcosa, un episodio, per esempio un racconto di un viaggio, come vedremo appunto tra poco, quelle discorsive dove invece la parte moralistica è ridotta a pochissimo, è spesso lo spunto per poter invece riflettere, quindi argomentare, discutere su una caratteristica, un problema, un aspetto del reale. Allo stesso modo, naturalmente le satire possono essere suddivise in, diciamo, componimenti monologici, quindi dove c'è un io satirico che parla e tiene appunto tutta la discussione e tutta la riflessione all'interno della satire, oppure dialogiche. E in questo caso naturalmente si tratterà di due personaggi, talvolta un tu che può essere generico oppure ben caratterizzato, o comunque caratterizzato, con il quale appunto Razio decide di discutere su alcuni argomenti importanti. Di una di queste due idee morali ne avevamo già parlato, accennato nel slide sullo stile, ma ora ci torniamo. Perché l'io satirico, cioè la persona appunto che dice io nelle satire, possa osservare, confrontare le diverse posizioni delle persone, le idee che hanno su alcuni temi, casomai con quelle sue, è necessario appunto che questo io satirico possa avere delle idee, ovviamente morali, di riferimento, una serie di principi a cui ovviamente attenersi. E per quanto riguarda Razio, queste idee sono di chiare, un'origine greca. La prima è la metriotes, la seconda è l'autarchia. Andiamo per gradi a vederle tutte. La metriotes possiamo tradurre come senso della misura, cioè quella virtù che ci permette naturalmente di scegliere sempre quella strada equidistante dai due eccessi. Tant'è vero che questa metriotes fa in modo che la virtù, tanto desiderata, agognata, ricercata dai poeti, non solo, ma dall'uomo romano in generale, consista appunto nel giusto mezzo. Quindi evitare naturalmente tutte le esagerazioni sia per un verso che per un altro. legata naturalmente alla metriotes e non può che essere così l'autarchia. L'autarchia, termine anche questo di evidente origine filosofica, insomma ci rimanda alle grandi filosofie del periodo alessandrino, può essere connotata appunto come una limitazione dei desideri, quindi quando la persona o il saggio decide appunto di porre dei freni ai suoi stessi desideri, per evitare ovviamente di eccedere, per evitare di cadere nel desiderio, e quindi ovviamente sarebbe difficile appunto liberarsi da questo desiderio e ricominciare a percorrere la via della virtù. E un elemento fondamentale dell'autarchia consiste proprio nell'evitare condizionamenti esterni, quindi basarsi su se stessi, cercare in tutti i modi di scommettere innanzitutto sulla propria persona, evitare appunto in questo modo di avere non soltanto appoggi esterni, ma in particolare appunto evitare che qualcuno possa, in una maniera così preponderante, condizionare le tue idee. E quindi ovviamente questa autarchia diventa una sorta di re derazionem, cioè dove l'io morale, l'io etico, deve innanzitutto rendere conto a se stesso delle azioni che compie, le sue scelte, le sue presi di posizione naturalmente. È ovvio che questa autarchia è la condizione essenziale di tanti filosofi, tanti saggi, cioè la libertà interiore come appunto capacità di ponderare dei giudizi e di quindi proseguire nella via della virtù. Andiamo ora rapidamente ad accennare ad alcune delle sadere più importanti, sicuramente dimenticando altre altrettanto famose e importanti, ma del primo libro mi sembra che come obiettivo minimo sia da segnalarne queste tre. La prima, in cui appunto Orazio parla di un uomo mai contento, mai contento in particolare perché è sempre mosso dall'avidità e dall'avidità del denaro, quindi un uomo travolto appunto da questa avidità del denaro, da questa sete di ricchezza che getta appunto l'uomo stesso in una situazione di perenne crisi e di scontentezza interiore. La quinta è una classica satira narrativa, è la relazione di un viaggio verso Brindisi in compagnia di alcuni amici come appunto Mecenate e Virgilio. La nona satira invece è la satira che vede un Orazio che sta passeggiando appunto per Roma, per strada, è la via sacra per alcune strade importanti di Roma e qui viene avvicinato da un seccatore che continuamente infastidisce il nostro poeta fino a quando poi ovviamente il seccatore per fortuna di Orazio prenderà un'altra strada. Del secondo libro penso che non si possa fare a meno della lettura della sesta satira. Prendendo spunto da un dono appunto della villa in Sabina da parte di Mecenate Orazio affronta il tema famoso e anche altre volte affrontato dopo Orazio del rapporto e contrapposizione tra città e campagna. I vantaggi del vivere in città e i vantaggi del vivere in campagna. e per rendere appunto in maniera chiara ed evidente questa contrapposizione scegli di raccontarci un apologo una favoletta e quella famosa del topo di città e del topo di campagna. Grazie a tutti.